Perciò per lo sconeci ma la storia di Gria Ma aspetta, che stanno a spiegare? A parte che il comunismo non esiste più Ma non è il fascismo Il fascismo è il per lo scone, il fascista Fa qualcosa di più frittatura di Gria Ma lascia a perdere che è partito di San Giudice lascia perdere perché ormai ne esiste più sinistra non c'è più testa è morto di uno che te dice a te che domani mattina il dittorio di lavoro se può cacciare quante cazzo domani se non mettiamo di dittatura questa qual è la dittatura? Berzani l'ha provata la saperte che Berzani l'ha provata quella pure è dittatura io non ti sto dicendo che Berzani è meglio però Berlusconi è dittatura il regime di Berlusconi andiamo a pensare aspetta ti spiego pure se tu metti Italia 1 canale 5 parlano sempre i mali di Berlusconi e quelle sono suoi allora se la dittatura io ti sto spiegando perché è dittatura tu vuoi fatigli tu vuoi fatigli tu vuoi bene il presidente controlla il televisore come Berlusconi allora la dittatura di Berlusconi è quella che lui decide decide insieme a chi ha due quattro decidi che domani mattina tu vai a lavorare da torno a lavoro se stanno con le palli in cinattia dicendo un po' che dice non è più non è dittatura che è una cosa anticostituzionale è dittatura scusate non è un altro discorso che è la dittatura grazie a tutti ciao Grazie.